Benvenuti nel nostro canale per una nuova anticipazione dal 5 al 9 febbraio del Paradiso delle Signore Otto, dove scopriremo che Marta e Vittorio si riavvicineranno tantissimo. Come reagirà Matilde? Lo scopriamo tra poco, ma intanto iscrivetevi al canale. In un vortice di emozioni, Marta Guarnieri e Vittorio Conti si troveranno a collaborare mano nella mano per il coinvolgente progetto della Casa Famiglia, un'impresa a cui la determinata Marta dedica anima e cuore. La loro collaborazione non sarà solo un'occasione per realizzare un sogno comune, ma anche l'opportunità di riscoprire quel feeling che li legava nei tempi passati. Tuttavia, la strada verso il successo sarà costellata di ostacoli, con Milano che si dimostrerà un terreno fertile per le resistenze al progetto. Nonostante ciò, Vittorio darà il suo sostegno totale a Marta Guarnieri, addirittura organizzando una raccolta firme per difendere l'idea. In cerca di consiglio, la donna si rivolgerà al suo ex compagno Vittorio, generando una serie di dinamiche intriganti. Voi cosa ne pensate di questo riavvicinamento? Scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al canale Amici e Amiche! Mentre la passione per il progetto li avvicina, Marta dovrà fare i conti con una situazione complicata proveniente dagli States. Tom, l'ex fidanzato americano, deciderà di fare un viaggio fino a Milano per confessare ancora i suoi sentimenti a Marta. La crescente intimità tra Marta e Vittorio, però, non passerà inosservata a Matilde, la compagna attuale di Vittorio. In un vortice di gelosia e sensazioni contrastanti, Matilde si sentirà sempre più esclusa dalla coppia e non esiterà a farlo notare al suo compagno, mettendo a dura prova la loro relazione. Voi cosa fareste al posto di Matilde? Scrivetelo nei commenti! E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per restare sempre aggiornati sulla nostra serie TV preferita. Prepariamoci a vivere una settimana intensa e appassionante, dove le emozioni si intrecciano in un mix di amore, collaborazione e gelosia. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo!